Siamo sempre qui dal BBK in questa bellissima località della costa romagnola per questo grande evento che appunto è BBK Salsa in France e ho qui finalmente un altro degli organizzatori che poi avete già conosciuto per altre cose perché lui è un bravissimo ballerino e già l'ho intervistato tempo fa. Ciao a tutti, è un piacere vederti qui, sono agitatissimi perché stanno per arrivare alle 4 e quindi loro sentono, fremono, è carica, è carica perché il ballerino sente l'odore della musica. Giancarlo, come mai Salsa in France? Mi chiama Max quest'inverno, Giancarlo voglio organizzare un evento, cosa facciamo? Me lo trovi in un locale? Sì, te lo trovo. Ho parlato con il BBK per cui ho lavorato tanti anni fa e ci hanno dato a disposizione questa location che per la prima volta sposa la salsa. Bravissimo. Da Mondo House si sposta alla salsa. Connubio che secondo me ci sta nel momento in cui riusciamo ad avvicinare i giovani alla salsa, aumentando un po' il numero dei beat e presentando delle salse e un prodotto un po' diverso. Questo è il quadro generale. Perfetto, allora che cosa ci si aspetta quindi? Perché so che tu fai freestyle, fai New York, fa di ogni, New York, Parigi, Londra, fa di ogni. Sì, però qui ci sono degli artisti veri oggi. Quindi farai solo l'organizzatore, sarai fermo, immobile. No, farò solo qualche stage di base perché agli artisti lascio il compito di fare le cose, gli avanzati insomma. Ecco, tu sarai i padroni di casa un po' insieme agli altri due organizzatori che abbiamo conosciuto. Allora io ringrazio, vuoi dire qualche cosa dei nostri ascoltatori che si... Questa sera ci sarà la serata top perché tutti gli artisti balleranno in spiaggia. Ecco, la cosa bella, io non ho mai visto un congresso sulla spiaggia, cioè ballare in spiaggia. Sulla sabbia. Ho sempre visto congressi vicino al mare, ma qui bello perché siamo proprio sulla sabbia. E stasera balleranno, ci saranno una quindicina di show e poi si partirà, arriverà a special guest DJ Zoro in console questa sera e quindi sarà il pianone. Domani sera sarà una serata diversa, sperando che il tempo regga, incrociamo le dita e... Ma lo state dicendo tutti in realtà, quelli che ho intervistato invece secondo me, come dicevo prima, avrete talmente tanta carica. La musica darà tanta adrenalina, tanta elettricità che non ci potranno essere cose negative qui dal Baby K. Bene, sono contenta di vedervi così carichi. Tanti auguri per questo meraviglioso progetto che sicuramente sarà sposato da tantissime persone. Alle 4 si aprono i cancelli e io mi aspetto la fila. Anche noi. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao.